Buona festa di papà a tutti! Per l'occasione ho deciso di preparare una sorpresa a papà. Papà! Sì Andrea? Stasera la cena, ci penso io! Chissà cosa mi docca mangiare. Oggi per preparare la cena ho un aiutante speciale, mia sorella Bianca! Bianca, stasera per papà prepareremo un super hamburger. Ok? Per favore mi possa restire la lattuga? Che bagnato! Questo, questa fa contenta papà. Adesso prendo l'hamburger. Questo fa bene ai muscoli. Bianca, mi mostreresti il formaggio. Mentre questo fa bene alle ossa. Adesso mi servirebbe il peco. Questo è semplicemente buono. Credo che così possa bastare. Bianca, mi mostreresti i cetrioli? Voglio mettere gli occhi. Questa è una maschera di bellezza. Fa bene alla pelle. Perché è schifo. Non mi stava bene. Ti dà! Adesso mi servirebbe il pomodoro. Un altro, per favore. Un altro. E un altro ancora! Ti dà! La prendo io. Ok. È buono. È buono. Le patatine. Le patatine. Queste fanno bene all'umore. Le ultime tre. Ok. E infine, il tocco finale. La bandierina. No, le patatine. Ok. Le patatine. Adesso teniamo, papà. Papà, la cena è pronta! È buono. Questa farà male al pancino, però fa bene all'umore.